Alla mia compagna. Era stata mia madre che aveva detto gelidamente alla mia compagna tutto questo deriva dalla tua indegna condotta. Vittoria, la mia compagna, si alzò, si avvicinò al luogo dove i cavalli del centro ippico si abbeveravano e rimase con una mano aggrappata alla sella e l'altra serrata a pugno, mentre le si affollavano alla mente tutti quegli episodi che fino allora non aveva collegato. Il marito si era allontanato da lei, spesso aveva lasciato il suo letto e al ritorno l'accusava invariabilmente di aver commesso un'altra colpa verso il matrimonio. Attribuiva alla moglie la capacità di tradirlo continuamente. «Sì, Vittoria è una ninfomane», mi disse il marito, che era diventato mio amico. «Mi ha fatto soffrire tremendamente, andava con chiunque e poi si pentiva e si faceva docce lunghissime, come un lavacro che la purificasse. Ma la sera preparava la cena per me e per i figli e andava a sedersi al bar del parco davanti a una tazza di tè, in attesa di un amante occasionale». Tornava di notte e di nuovo si faceva la doccia per pulirsi dal peccato. «Tu come hai fatto ad incollartela?» «L'ho conosciuta al centro ippico e mi ha attratto perché ama i cavalli come me», dissi. «Ma Vittoria è una ninfomane», disse l'ex marito. «Sì, ma la sua esperienza vale quanto la mia, cheppure non sono un satiro». Che significa? Che anche l'esperienza di Vittoria, senza giudicare, serve al suo superamento. Quando in una prossima vita girerà all'angolo e sarà una donna frigida o un uomo impotente, capirà che il corpo fisico non è solo uno strumento di piacere.